Una campagna informativa di sensibilizzazione alla prevenzione del cancro, quella della LILT, che continuerà anche a novembre in considerazione della risposta positiva, soprattutto delle donne, per combattere il tumore al seno. Importante essere informati e mettere in pratica i preziosi consigli che l'oncologo barese, il professor Francesco Schitulli e la LILT forniscono attraverso un'incessante attività. Stiamo registrando un incremento notevole di richieste da parte delle donne di eseguire visite, controlli, ci chiedono consigli, vogliono degli opuscoli per quanto riguarda proprio questo problema legato al tumore al seno. Anche l'annata Tangelo, che ha dato la sua disponibilità, sta riscontrando un successo inspiegabile sotto certi aspetti. Dico inspiegabile perché è una giovane donna che dice che proteggiamo il nostro seno attraverso la prevenzione. Noi, come LILT, continueremo questa campagna, non ci fermeremo a questo mese di ottobre, ma lo continueremo per tutto il mese di novembre, proprio per rispondere all'esigenza e alle richieste da parte delle donne. Il bello di questa iniziativa è che in tutto il mondo saranno colorati di rosa i monumenti più belli delle nostre città, delle nostre piazze, a Roma per esempio il Colosseo. L'altra iniziativa che mi piace sottolineare è che questa è un'iniziativa proprio della LILT, però è stata copiata da tante altre associazioni, da tante altre realtà. Questo è un fatto positivo perché significa che la LILT ha il primatur di tutte le iniziative positive. Anche associazioni che non si interessano di prevenzione oggi cominciano a parlare di prevenzione perché sanno che la prevenzione è l'arma vincente contro il cancro, di cui l'importanza anche di sostenere la LILT e di continuare a sensibilizzare tutto il mondo, a partire da quello femminile, sull'importanza della prevenzione. Dobbiamo diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita.